Altro segno della settimana dal 26 febbraio al 3 di marzo Intanto vi ricordo di cliccare sulla campanella Iscrivervi prima al canale, cliccare sulla campanella così sarete sempre avvisati dei prossimi video Di quando pubblico i video e dopodiché mettere il like a questo video Lo scorpione Tra l'altro con la morte Lo scorpione, questo è il prossimo segno che andiamo a fare Vediamo un attimo com'è il cielo in questo momento per lo scorpione Beh, non ci sono movimenti questa settimana Mi sembra che in ogni caso ci sono delle energie toste Perché Saturno, Nettuno, Sole e Mercurio sono tutti in pesci Quindi grandissima forza arriva allo scorpione Continua l'opposizione con Giove e Durano Quindi Uno scorpione che si raggiunge le pt, però lo fa Con gran fatica Grande, grande fatica Chiaramente Plutone, Venere e Marte In quadratura dall'acquario Ok? Nelle situazioni amorose, sentimentali, eccetera Potrebbe essere rilascibile Potrebbe essere un momento in cui Plutone Che lavora molto dall'interno Potrebbe fare emergere Esplodere Delle situazioni che non ci si aspettavano Lo scorpione ha la sua carta La morte Lo scorpione cambia pelle Come sorpenti Lo scorpione sta cambiando pelle Si sta trasformando Ed è nel momento più brutto della trasformazione Quale è anche brutta sta carta? Mamma mia, tantissima Per cui Questo è il momento più brutto Nel momento in cui può veramente colpirvi Ok? Quindi Sotto, tra l'altro, sette di spade Quindi Ambiguità Situazioni che non si capiscono Vabbè, lasciamo perdere Concentriamoci sulla morte Quindi Grande momento di trasformazione Ok? Tutte le trasformazioni sono dolorose Che c'è? Anche quella della farfalla È una trasformazione dolorosa Che da bruco diventa farfalla Quindi Sicuramente È un momento pesante Vedete Quante Rughe Che ha questa faccia Che pallore Quindi È Una trasformazione Che è Abbastanza tosta Energia interna dello scorpione Il sei di coppe Energia esterna Il fante I bastoni Il tre di denari Il sei di coppe Il sei di coppe Ci parla Di una situazione Che ha a che fare Con un incontro A livello soprattutto Lavorativo Con un incontro Lavorativo Che comunque Con il reddit Significa che va Molto bene Oppure ci parla Di qualcosa Che ci sta tornando Dal passato Ma in ogni caso È qualcosa di bello Di ricco Quindi Qui non ci sono Situazioni negative Quindi questa trasformazione In questo momento Sembrerebbe Positiva Però vediamo Una settimana L'eremita Il due di spade L'asso di coppe Il dieci di coppe La regina di denari Con il re di denari Qua Interessante Il cavale di coppe Beh Questo è uno scorpione C'è un altro segno qui Che aveva l'eremita Inizio Non mi ricordo Forse l'acquario Le risposte Sono dentro di te Ti dicono le carte Anche per te Le risposte Sono dentro di te Ma queste risposte Se tu ascolti La tua voce interiore Ti costringono A fare delle scelte E la scelta Per lo scorpione Nell'asso di coppe E aprirsi Al sentimento All'emotività Al nuovo Al nuovo A qualcosa Che ti fa stare bene Che ti dà senso D'appartenenza Che ti dà gioia Che ti dà la sensazione Di essere benedetto Che ti dà La generosità Alla famiglia Qualcosa che ti fa sentire A casa Che ti dà armonia La regina di denari Mi dice che ti devi Focalizzare Su di te Devi credere Di più in te Interessante la combinazione Di re e regina di denari Che mi fa capire Che c'è uno scorpione Che potrebbe Avere a che fare Con una persona Complementare Il cavale di coppe L'ho lasciato per ultimo Questo potrebbe essere La tua energia Perché è sotto L'asso di coppe Quindi Ti vuoi muovere In maniera Quasi romantica No? Per andare ad offrire A qualcuno Una nuova opportunità La cosa interessante Che questo cavaliere Si muove Esattamente In opposizione A sedi coppe Non l'avrei detto Io in un'altra occasione Però mi è balzata All'occhio Avrei detto Vi muovete Verso il passato Oppure il passato Che si muove Verso di voi Invece io vi dico Che Per tanti Scorpione Questa settimana Ci sarà La presa Di posizione L'allontanamento Dal passato L'allontanamento Dal passato Per costruire Qualcosa Di più solido Di più solido Ora Non è detto Per qualcuno C'è semplicemente L'attesa Di qualcuno Che arrivi A portarvi La coppa Perché le leggi Sono reversibili Ricordiamocelo Quindi Qualche scorpione Semplicemente Sta aspettando Che qualcuno Arrivi con un'occasione Ok? E soprattutto Potrebbe essere Qualcuno Dal passato Lo ricordo O un incontro Per esempio Che ha fatto Ricordatevi Le cose più importanti Di questa stesa E comunque Molto bella Perché è uno scorpione Che veramente Si apre a nuovo Sono queste due carte Questi due arcani maggiori Perché lo scorpione Ha soltanto due arcani maggiori Quindi non è una settimana Particolarmente impegnativa L'eremita E la morte Lo scorpione Le risposte Le conosce E proprio perché Ha le risposte dentro Che tenterà La trasformazione Che in qualche modo Si sta trasformando Sta modificando Proprio la sua vita Il suo assetto di vita Il suo pensiero Perché già conosce Dentro di sé Le risposte E vi dico anche Che è uno scorpione Che secondo me Non le manda a dire Nel senso che È disposto anche A chiudere Le certe situazioni Almeno questa settimana Ripeto Non è una settimana Dalle decisioni drastiche Comunque È una settimana Che fa parte Di un percorso Di un cammino Di grande trasformazione In cui si sente Tanta voglia Di aprirsi A nuovo Di amare Di Di coccolare Di armonia No? Di stare bene La regina Il re Di denari E colfante Di bastoni Quindi Ci potrebbe essere Un messaggio Da un punto di vista Esterna Da qualcuno Ripeto Secondo me Lavorativamente Comunque Regina di coppe Otto di bastoni Sì I messaggi ci sono Questa settimana Re di denari E mago Qualcuno Prenderà L'iniziativa Questa settimana E non siete voi Per questo è l'energia esterna Quindi esternamente Messaggi vi arrivano Le comunicazioni Vi arrivano Scorpioni Siete in tanti Parola di essere In crisi Ma tanti Tanti Cioè Continuano ogni giorno Ogni giorno A contattarmi Scorpioni E io dovrei avere Una giornata Di 48 ore Minimo Per parlare Con tutti voi O per rispondere Ai vostri messaggi E questa cosa Mi fa pensare Che effettivamente Lo Scorpione Questa quadratura Con Plutone E con Con i big Che per ora ha avuto Con l'opposizione Che da un anno Si porta Quasi un anno Si porta presso Con Giova E effettivamente Adesso è stanco Su Scorpione Sull'abilitondante Mi sembra Da tutte le tre Frate che ricevo Questa comunque Una settimana Che non è brutta Anzi Da un punto di vista Lavorativo Poteste avere Tante opportunità Tante comunicazioni Ma anche Da un altro punto di vista Si potrebbe Fare avanti Qualcuno Mi arrivano I messaggi Questa settimana Ci sono i messaggi Ricordatevi Le energie sono reversibili Potreste Essere voi A mandarli O almeno Ci potrebbe essere Reciporosità Di scambi Qui c'è qualcuno Che prende L'iniziativa Secondo me Non siete voi E l'altra persona Ma potreste Anche essere voi Ma soprattutto Relativamente A situazioni Economiche Ok O che riguardano Quella famosa Trasformazione Di cui abbiamo Detto Ridetto Questa sera Ok scorpione Adesso Andiamo a vedere Gli oracoli Poi dobbiamo Sapere Qual è il titolo Dobbiamo dare A questo video Stasera Allora Felice Cambiamento Un profondo Cambiamento Riempie La tua vita Di felicità E io Alle scorpioncine Amate Che adoro Che adoro Che sono Che so Che stanno Vedendo questo video Auguro Veramente A questo profondo Cambiamento Che riempie loro La vita Di felicità Questa settimana Allora Adesso Andiamo a vedere Non lo commento Nemmeno Perché è troppo Bella Questa carta Troppo Voglio resti Lì All'universo Tanto non è la luna Stata per diventare piena Ma andiamo all'universo Oltre le nostre manifestazioni Andiamo adesso A vedere Qual è la vostra Verità nascosta Scorpione A volte Sto sveglia O sveglio Pensandoti Beh Una cammini Dove è così A volte Sto sveglia O sto sveglio Pensandoti No commento Si commenta Da solo Questo messaggio Non ho bisogno Di reato Però sapete Questa è l'energia Nascosta La verità Nascosta Perché non le dite Queste cose Perché le tenete Nascoste Qual è la canzone Della settimana Scorpione L'amore È fragile L'amore è fragile L'amore viene Va Subisce mutamenti Subisce trasformazioni Ci rende fragili Non è soltanto fragili Ci rende fragili Forse è una cosa Che lo scorpione Non ama tanto Comunque Questa è la vostra Canzone Questa settimana L'amore è fragile Scorpione Ci vediamo La settimana prossima Bye bye